Siracusa, incidente sul lavoro, un'altra vita spezzata, muore operario cinquantenne della Sicimontaggi. E' morto dopo un mese dall'incidente sul lavoro avvenuto nell'area dell'azienda Versales nel polo petrolchimico di Siracusa. Michele Monitto, 50 anni di Calentino in provincia di Siracusa, è deceduto all'ospedale Cannizzara di Catania dove era stato trasferito per le gravi ferite riportate. Secondo la ricostruzione dell'incidente l'uomo era rimasto schiacciato da qualcosa mentre manovrava una piccola gru. Monitto era stato dapprima ricoverato all'ospedale Umberto I di Siracusa per poi essere trasferito al Cannizzara di Catania. Ma nonostante i tentativi dei medici, l'operaio è deceduto nelle ore scorse. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari e come sindacato siamo a disposizione nel caso in cui la famiglia ne avesse bisogno per fornire assistenza legale. Lo dichiara Marco Faranda, segretario generale Fismic Compsal di Siracusa dopo la morte di Michele Monitto, l'operario cinquantenne della Sicimontaggio, che era rimasto ferito in un incidente sul lavoro nell'area dell'azienda Versalis lo scorso mese di settembre. Purtroppo, ha aggiunto Faranda, ci troviamo davanti all'ennesima morte nella zona industriale. La magistratura è già al lavoro e chiediamo che venga fatto tutto il possibile per accertare quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Come Fismic Compsal coinvolgeremo tutti i lavoratori del polo industriale per avviare una raccolta fondi da destinare ai familiari di Michele Monitto. Faranda sollecita nuovamente un'azione decisa sulla sicurezza nella zona industriale. Ci troviamo davanti a un'altra vita spezzata a causa di un incidente sul lavoro, dichiara. Non possiamo continuare ad assistere a questi episodi. Si deve agire e bisogna farlo subito a tutti i livelli per porre un freno a questi incidenti. Come Fismic Compsal Siracusa, ribadiamo ancora una volta che non è più possibile rinviare l'istituzione di una task force che effettua e controlla e verifica in tutta la zona industriale.